Che strumento suona? Allora, io suono ufficialmente l'ovore, il sassò, il fono soprano, ma lavoro maggiormente con la misa armonica. Suono tre strumenti, ufficialmente. Sono pure il suo benissimo. Qual è il suo cantante pop preferito? Cantante pop preferito? Un cantautore preferito è di André. Ovviamente mi rifaccio a lui quando scrivo le canzoni, quando scrivo le canzoni. Qual è la sua opera classica preferita? Opere classiche, mi piace verdi, proprio se intente il melodrama, l'opera lirica. Mi piace verdi perché mi piacciono le melodie, lui è quello che ha detto maggiormente la melodia, poi sull'avvambanda, io che sono anche un direttore di barco, quindi manco cucini, insomma. Qual è il suo motto, frase, gesto fortunato prima di entrare in scena? Ma no, 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 nessun gesto, no, no. Solo sono di solito, sono un po' teso prima di entrare. Che cosa è per lei la musica? Ma per me è la mia vita, faccio solo musica, vivo di musica, da quando mi sveglio che la vado a dormire, quindi non ho da poter fare a meno. Ho provato a cambiare lavoro, a fare un'altra cosa, ma sono riuscito a tornare a fare il modigista e il professore, a scuola di musica, perché non riesco a non fare il modigino. Ci potrebbe suonare un pezzo con la fisarmonica? No. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti